Ciao a tutti, la coscienza quantica. In questo video voglio parlarti della coscienza quantica, cioè del legame di fatto che esiste tra la nostra coscienza e la fisica quantistica. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere di farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. Ma veniamo ora al tema, al tema della fisica quantistica e della coscienza, la coscienza quantica. Allora, che cos'è la coscienza? Diciamo che l'essenza della coscienza è avvolta da un velo di mistero. Vi sono dei paradigmi diversi, vi sono diciamo delle teorie che rappresentano la nostra coscienza come il prodotto della materia e la materia stessa che genera la coscienza e questa è una visione più materialistica e anche un po' deterministica mentre vi è una teoria orientale, ad esempio la visione buddista che ha sempre rappresentato mente e corpo come fondamentalmente uniti ma nella quale è la mente a generare il nostro corpo, cioè la coscienza, la nostra coscienza a generare il corpo. E la coscienza è un qualcosa che preesiste, diciamo, è un qualcosa di preesistente che va completamente a, diciamo, va completamente a scardinare il meccanismo, diciamo, mentale del dogmatismo deterministico in cui la coscienza è una coscienza creatrice fondamentalmente è una coscienza che ha la funzione di creare, di co-creare la realtà e la realtà di fatto non potrebbe esistere senza una coscienza che l'abbia creata questo è un punto fondamentale la coscienza quindi è un lente creativo per eccellenza e da questo punto di vista si crea veramente un legame con quello che chiamiamo la quantistica perché la quantistica è comunque, la fisica quantistica è comunque collegata proprio a questo fenomeno di complessità e di, diciamo, caos fondamentalmente di sistemi non lineari, dinamiche non lineari correlate al caos e questo è molto importante perché in principio fondamentalmente era, se vogliamo, il caos cioè un groviglio di elettroni groviglio di particelle che poi piano piano si sono strutturate e hanno generato quello che dal caos, diciamo si è creato un qualcosa di più strutturato la teoria del caos è la disciplina di fatto che indaga il comportamento dei sistemi dinamici dei sistemi dinamici non prevedibili o prevedibili solo stocasticamente prevedibili soltanto attraverso per così dire delle probabilità però le interazioni, diciamo, di sistemi caotici portano ad ottenere una sorta di ordine attraverso il caos e quest'ordine determina, diciamo, un po' una perdita di libertà e questo è un qualcosa di molto importante un qualcosa di fondamentale nel nostro cervello avvengono dei processi che sono fondamentalmente dei processi quantistici che si manifestano in modalità diverse per cui la nostra mente diventa veramente una mente quantica una mente quantica che va in parallelo, diciamo alle scoperte fatte dalla fisica quantistica è molto interessante questo discorso la nascita della fisica quantistica è veramente interessante il termine quanto venne cognato da Max Planck che presentò, diciamo, dei risultati nel 1900 dove, diciamo, propose l'idea radicale che l'energia e quindi anche la materia non è un qualcosa di continuo ma è un qualcosa di, diciamo, quantizzato secondo la meccanica quantistica poi la materia ha una struttura duale cioè, in realtà, una struttura sovrapponibile tra funzione d'onda e particella che coesiste nello stesso tempo questo venne poi formulato in alcuni principi base ad esempio il principio di indeterminazione di Heisenberg che rimane una dei pilastri fondamentali della quantistica e che afferma che una particella qualunque vive in uno stato indefinito fin tanto che in qualche modo non interagisce con una particella, diciamo o un'altra particella non interagisce con un evento macro che la fa apparire fondamentalmente e qua c'è il principio di sovrapposizione che è anche interessante che afferma che tutti gli stati possibili sono presenti, diciamo fin tanto che non fin tanto che non vengono misurati la sovrapposizione quantistica, diciamo spiega come le particelle essendo dappertutto possono fare, diciamo più cose contemporaneamente anche cose diametralmente opposte ed è un po' quello che avviene diciamo nella coscienza che noi abbiamo fondamentalmente durante il sonno-sogno perché durante il sonno-sogno siamo veramente la nostra mente vive a pieno il fenomeno quantico e noi andiamo a diciamo andiamo a sperimentare diverse diverse situazioni possiamo andare a sperimentare delle cose molto molto particolari anche fenomeni come l'entanglement quantistico che è un fenomeno diciamo fisico che è caratterizzato dal fatto che due particelle anche se molto distanti possono essere completamente collegati tra loro in una sorta di non località cioè come se lo spazio fosse completamente azzerato fosse completamente diciamo eliminato non esistesse più l'universo della meccanica quantistica è un universo particolare perché abolisce completamente le varie classificazioni che noi facciamo del mondo deterministico dove il verso e l'inverso possono coesistere ed è esattamente quello che accade nei nostri sogni nei nostri sogni può coesistere il verso e l'inverso quindi questo è importante ed è la correlazione diciamo tra la fisica quantistica e tra la fisica quantistica e anche la nostra mente quindi questo è molto importante e fondamentale cioè la biologia ma anche la nostra mente si basano e funzionano sui principi della quantistica cioè su un principio di libertà assoluta che poi piano piano possiamo perdere diciamo in alcune circostanze quindi noi possiamo studiare il nostro cervello attraverso proprio le regole determinate dalla fisica quantistica bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare abbonandoti potrai farmi delle domande alle quali darò delle risposte precise in apposite live ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti